Musica Come va amici? Noi siamo i due Bomber del Freestyle E quest'oggi Ma gliel'hai detto te? Questa volta io non mi sono organizzato Io non l'ho detto nient'io Hanno fatto tutto loro Sta spuggendo di mano sta cosa Avranno sicuramente visto l'altro video Mi raccomando sotto in descrizione l'altro video con i fan Perché quest'oggi Bomber ritorna il porta a porta I due Bomber contro i fan Ma quest'oggi sarà una cosa molto particolare Perché sarà un 2 vs 2 In questo campo dove la palla non esce mai Quindi direi di partire perché Io direi di partire ma se tu non me sono in troppo Sì Sì Allora andiamo Sì 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 Grazie a tutti. 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 Allora, come rivincita vogliamo vedere tutti loro in campo, chi fa il primo gol, noi due contro tutti loro. Il primo che segna vince totalmente questa challenge. Accettate? Allora, sono carico. Andiamo. Allora, è così non vale. Allora, non direi così non vale. Allora, è così non vale. Vabbè, sempre partecipare. Vabbè, sempre partecipare e diversissima, mi raccomando. Allora, come va, 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 Allora, è, va, 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 va.